La chiusura nelle case ha rappresentato il cambiamento di vita completamente. È stata un'imposizione per tutti, ma ancor più per i ragazzi. Il cambiamento completo di un percorso, di un ciclo che era quello quotidiano, che poi abbiamo ben visto con alcune delle risposte, ma anche alcune delle conseguenze, che non era solo il problema di chiudersi, voleva dire cambiare il ritmo di un quotidiano che è fatto di quando mangiare, come mangiare, di quando andare a dormire, di che cosa fare prima. Cioè un cambiamento sostanziale che ha voluto anche dire poi cambiamento rispetto a quello, la data, la famosa didattica distanza, in gran parte improvvisata, perché questo bisogna dirlo, e perché purtroppo si mantiene anche in questo periodo, in molte e molte tette. E quindi, in molta realtà, un cambiamento sostanziale che non vedevano l'ora di tornare per essere contenti e felici a scuola.